Oggi sono qua, sono al bar Chiodo, sto bevendo il caffè, qua il ginseng, come vedete, al bar Chiodo, ciao, dal bar Chiodo e oggi facciamo allenamento a Policasta, allo stadio, è buonissimo il ginseng, vedete, boi, 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 vedete che bella bar, dicevo facciamo allenamento alle ore 19 allo stadio Buccentum di Policastro e poi domenica giochiamo con i Licusati, e sia alle ore 16 e 30, venite sportivi, vi aspettiamo, va bene? E tutto dal bar Chiodo, da Lucianino, buono sto ginseng, ciao, forza Golfo di Policastro, grazie, saluto Donino il mister Antonio, sì, è Dino, Dino, è Gito Mega il direttore, che ci ha portato ai Playoff, ciao, ciao, da Lucianino, è tutto dal bar Chiodo di Sanchi, forza Golfo di Policastro, siamo ai Playoff, siamo ai Playoff, siamo ai Playoff, ciao, ah, brindisi!